e beh vedi Gianni non è un'apologia del Caged io sono diventato un fan del Caged un po' di anni fa quando facendo lezioni in diverse scuole ho incontrato una scuola che ne faceva largo uso e io stesso non ne avevo studiato approfonditamente l'importanza e la comodità quindi mi ci sono appassionato ho scoperto che era veramente potente e così condivido con te e con i lettori di accordo o gli ascoltatori di questo video questa mia apologia come l'hai chiamata tu del Caged credo che sia molto importante semplificare al massimo l'organizzazione della tastiera il Caged però non è una scorciatoia non è che è come non imparare a leggere la musica la musica è importante saperla leggere saperla leggere ed è molto importante anche conoscere le note sulla tastiera della chitarra cioè nei miei manuali io lasciamo stare Guitar Map nei manuali di lettura io spiego il Caged e la lettura la lettura in posizione la lettura invece in senso orizzontale sulla tastiera ma veniamo al nostro Caged chi non organizza con il Caged organizza con i box o le posizioni ora ricordarsi che quel determinato box ha quella determinata diteggiatura si basa tutto esclusivamente sulla memoria se ti dimentichi che il box 2 quello che inizia con il dito e ha quella sequenza di note l'hai dimenticato sostanzialmente quindi devi fare un lungo processo per cercare di ricordarti magari guardando gli altri 4 se sono 5 box per arrivare poi all'ultimo che è rimasto escluso invece il Caged che per chi non dovesse conoscerlo è basato sulle 5 posizioni degli accordi quindi C A G E D C che sarebbe DO A LA G SOL E MI DI RE è basato su dei principi diversi cioè un chitarrista questi accordi se li deve ricordare sicuramente se li ricorderà perché sono gli accordi che si possono fare in prima posizione utilizzando anche le corde a vuoto quindi nel momento in cui uno si ricorda questi accordi e si ricorda quello che viene chiamato il five notes root shape che sarebbe le forme che contengono questi accordi sostanzialmente se io metto il DO qui e il DO qui qui ho una forma questa è la forma di DO qui ho un DO e qui ho un DO e questa è la forma di LA qui ho un DO, un DO e un DO questa è la forma di SOL qui ho un DO, un DO e un DO è la forma di MI qui ho un DO, un DO e questa è la forma di RE quindi ecco le cinque forme che mi permettono di organizzare la tastiera ma se io mi ricordo K, A, G, E, D mi ricordo anche K, DO in forma di A le consonanti le dico come le elementari G, G, E, D ecco che automaticamente io avrò organizzato tutta la mia tastiera usando cosa? un principio molto semplice che è quello degli accordi e quindi anche la memoria cinestesica della parte muscolare che si ricorda di quella forma ma l'avrò correlata anche a un suono quindi avrò lavorato anche sull'orecchio perché io poi in quelle forme così come spiego proprio in Guitar Map che è oggetto di questa intervista che hai voluto farmi e di cui ti ringrazio e grazie anche a Leonard che è il mio editore ecco che su questa forma di accordo io vado a vedere tutto vedo l'accordo di DO, vedo la scala di DO eccetera eccetera scusami non ho né plettro né niente, nemmeno è collegata la chitarra ma volevo risponderti immediatamente alla domanda ma vedrò anche la pentatonica quindi avrò la pentatonica di DO in forma di DO la scala diatonica maggiore di DO in forma di DO l'arpeggio dell'accordo di DO l'accordo di DO tutto quello che riguarda questa parte e che quindi muscolarmente e uditivamente mi riporta a conoscere quella porzione di tastiera facendo questo lungo tutta la tastiera utilizzando le forme del CAGED non solo come se fossero scale diatoniche maggiori ma lavorando anche sulla parte modale e di sovrapposizione per ottenere accordi con la settima maggiore insomma estensioni diverse ecco che andiamo a sfruttare al massimo la forza del sistema CAGED tu mi hai fatto questa intervista Gianni su Guitar Map ma Guitar Map ovviamente è all'interno come diciamo durante l'intervista all'interno di un progetto didattico che è molto più ampio e che ho iniziato a portare avanti beh più di 25 anni fa ecco che manuale delle scale manuale degli accordi tutti gli altri manuali ecco che trovano in Guitar Map la mappa su come metterli insieme sulla tastiera e quindi avere una grande conoscenza della tastiera della nostra chitarra e andare a pizzicare quei colori musicali laddove ci servono lungo tutta la tastiera ciao Gianni ciao a tutti gli amici di Accordo ciao